Bella! Sì No Non ci farei Mi ammazzo qualcuno Non funzionava bene Mi dicevano Ok, ciò non va però Porco dio, bene Bene, è partito Eccoci qua C'è la voce di Wesker Sì Quello in inglese Questa merda Oddio Non si sente mostro Non lo senti Cioè non capisco quello che dice Io vedo solo cadaveri Interessati Sembra veramente amnesia Cazzo sì Cosa? E' quello di PewDiePie Sai dei manichini che restavano immobile E si muovevano quando si Oddio Va bene, devo scartarci e facci giocare Oddio, c'è la gamba La gamba Stiamo andando a scatti, siamo paraplegici Eccoci qua Bella, tutti e manca E la bella Hello Tobias Tutti i cosi E presentazioni varie Ok, comunque siamo l'operatore Non sono solo perché Non abbiamo detto nulla No, stavo scherzando Siamo lui e Favij Io sono PewDiePie Stiamo facendo gameplay cooperativa Perfetto Ecco qua Doris Dori 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 Ciao sono Dori Non me l'ho detto Puoi saltare? Saltare? Saltare sul fuoco È un orgasmo saltare Comunque guarda Speriamo con Che c'è? Puoi saltare sul fuoco? Speriamo sul fuoco No, no, non è così stupido Uh, c'è un cesso Un cesso Un cesso Una pagina Sì, vabbè C'è la voce della testa C'è la voce della testa Che è più legato Voglio in bocca Oh my goodness Voglio in maratietta al vetro Ma c'era anche Primo? Stava giusto? Non lo so Che cosa fa? Ah ma è Wesker Tu sei Wesker Provi di trovare l'uscita per Abbiamo solo Wesker Che brutto Perché che brutto? Ma Wesker Non è cattivo Sì Allora È brutto Dove? Ce lo vuole essere Dove? Lui? Ma cos'è? Ah ma non è che è un labirinto eh Lui c'è esisti? Si può fare un cazzo? Vabbè Allò Buongior Le toi Volevo Pate avec moi Aia Aia No perché Mi mette davvero Oh Aia 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 Sono dei palini giganti Ho sentito Ma tu senti? Mmh Secondo me Ci sono dei palini che ci inseguono in questo gioco Panini? Sì Oh Dele metti? Sì Perfetto Scaduti tre anni fa Che ci vogliono Ci vogliono Ci vogliono Vendicare Che figata Items? Items 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 Suppiamo Sì Figaro Oh sì Così Più di dentro Aaaaaaah Ma dai Cos'è? Ah soldi Allora dammeli Qui andiamo a esplorare Sto posto del cazzo Oh no Si apre Oh Gesù Dietro Lui è calmissimo parlando Allora 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 C'è nessuno qua Anche meglio Il coniglio di Five Nights Ma secondo te il coniglio di Five Nights gioca a Five Nights? Si e si spaventa quando vede se stesso No Eh Magari lui vede noi Aspetta Come si fa? Oh bella Si vede un cazzo Si Che posto sono? Cos'è? Stefano Cos'è? Stefano Abbiamo trovato il cadavere di Stefano Dio vada Quanto è che qui di poi non Qua succede? Non posso andare avanti Sono impedito Sei grosso Sei cicciona Cicciona mamma Si vede veramente da curto C'è proprio la luminosità Ottimo aspetta Cosa è? Contali? Beh Sesti cazzo Contali No I pettini No Hello si chiama bro My name is Jok Che bel nome Non c'è veramente cicciona perché Interessante Non mi interessa i vostri urli Beh Sento uno urlare Ma lei ha messo tutto uguale Un labirinto di merda Cos'è sta roba? Torso 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 Si vabbè Ciao Ah c'è un'altra pagina Sembra di frega di occhè Giusto Non bisogna controllare Contragli No options Relics Guarda Relic è tipo Stefano Trovi una neve affondata Ma posso prenderlo? Aspetta No No Peccato Dovevo prendere Stefano Niente Dai Butta via Vabbè Niente Let's go Dove siamo arrivati Devo andarli qua Sembra un po'... Oddio 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 Sembra... Vorcuta questo posto Vorcuta Mason Jesus Christ Ha detto Mason non Jesus Questo è il primo passo Uscire dalle tenebre Primo passo Uscire dalle tenebre Ah questa qua è la porta dove non può andare Ah aspetta Ah no è vero Ci sei passato Qua si trova solo la reliquia di merda Inutile Stefano non è inutile Non ci siamo stati No Oh my god Oh my god Eccoci qua E ora Oddio Succede Siamo messi ad andare meglio Sera è andata bene Ma cosa sono Generatori Posso interagire con i generatori Ma non si riesce a capire un cazzo Ah vabbè Ah si ma con la tina Ah bella No abbiamo aperto la porta Yeah open the door Di no Mamma mia sti sentieri del cazzo Veramente brutti 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 Oh Gesù No è una combinazione Il turbino dei generatori Boh Oh Find the next subject Was easier than expected The past year Pat year Pat year Vabbè ok Ma ste casse si possono aprire Si può fare un cazzo in sto gioco Non si possono neanche prendere le casse Allora Oh che cazzo Vaffanculo Questa non è rimasto nella stessa posizione Non hanno fatto un verso Sembra Veramente Ma il Gesù Cioè Dovevo restare l'inno Cazzo è arrivato Ma in un Ah aspetta Si Ma in un Si Ma in un Ma in un Ma in un Ma in un Questa è un attimo Le note Guarda le note Aspetta Appena arriva fuori Guarda 1 3 0 5 Interesting Andiamo a metterli Come si fanno A mettere i numeri Dai vai fuori E te E te Allora 1 3 0 5 1 No 1 3 0 5 Ah vedi Che si può fare Allora 1 3 0 5 Quanto sono intelligente Non ci voleva un genio Non mi lasci leggere C'era una chiave Una chiave Si Mi ho trovato Una chiave Raga Dai Lo vedi Ma prendila però Genio della mamma Del cazzo Beh Che abbiamo fatta Abbiamo aperto la porta Dove c'era il tipo Che urlava I fake yes bitch Ok Eccolo Gesù Tu vuoi vedere Gesù No 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 Io non lo voglio vedere Dio Porco dio Combattiamo Ma stai cazzo che combattano Adesso Hide Bene Siamo nascosti Stay away from him You cannot confront him Siamo nascosti Hide Stay away from him No Non gli hanno tagliato le gambe No No era il paziente Che gli hanno tagliato le gambe La lingua Guarda dove E' quello di chi è Ma boh Oh merda Ma dove cazzo Viamo andare No Ah devi andare No questo è sempre nascosto Devi andare da dove è uscito lui Beh Non c'è Non c'era mica qua Dice ancora Hide Oddio Oddio Gesù Ma cos'è Ma cos'è Ma le ruote Hai ragione Sì Ma le ruote Era Charles Xavier Quello di X-Bare Quello con le ruote Dove Non lo so Era qua Ciao Era cosa Come si chiama il tipo di League of Legends Quello con Tutto sei Quello con un suono schifoso Due merdoni Due merdoni Grazie Tuo No Presti Sì dai E' grasso questo qua No Non mi so Però va grasso Ma presti E' perfetto Vabbè però Run Non c'è su Tonta Oddio se lagga Corriamo laggando Mi ho fatta Vai Non cazzo Non c'è Non c'è Non c'è Non c'è Non c'è Non c'è No 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 E ciao Dove cazzo ci nascondiamo C'è tutto il tavolo Muori Rotella Seguge Ah si ok Comunque Comunque c'è anche Argo No 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 Ti frego notti Si mettono nel ruolo Rotella Rotella va visto Mi sa Rotella Ciao Rotella Sti benocchi Perché sti benocchi Hai visto Che palle Dai corri No tu non puoi Invece la te ne è premuto Si Oddio Rotella Ecco Rotella Vedo Rotella Dai giro Ti puttano Non sei brutto Ok non mi ha visto Ma cazzo Cazzo è bruttissima Non sto più brutto Te l'ho Che culo Non è che però Si riapre la porta No se ne frega No 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 VECMO Non urlare No no Con la vocina di merda No 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 Jump se te non segui consigli e poi uguale no mi devo una squadra ciao ah ecco è successo ho successo qualcosa di strano non devi finire nel cratere si chiama il cratere dei bug sei buggato il gioco ma che fanno dovremmo mica ricominciare da capo